Salve, io sono Nick di KeyMinds e benvenuti in un nuovo video oggi per le nomination agli Oscar 2020 che l'Academy ha rilasciato da poco con una live su YouTube che io purtroppo non sono riuscito a seguire perché diciamo ero in un orario un po' scomodo, ma ho la lista finale sotto mano e quindi le guardiamo assieme e questo sarà un altro video molto simile a quello dei Game Awards, quindi niente tagli, chiacchierata tra amici e darò dei miei pareri al volo sulle candidature ed in generale proverò a fare in certi casi delle previsioni anche se non sono facilissime però ci proverò visto che si tratta di nomination e non di premiazioni effettive partiamo subito quindi con il miglior montaggio sonoro, qui abbiamo 1917, Le Mans 66, Joker, c'era una volta Hollywood e Ad Astra tutte più o meno molto azzeccate secondo me, in particolare la candidatura ad Ad Astra perché è l'unica candidatura che si becca a questo film giustamente perché secondo me il montaggio sonoro ci sta e come previsione do appunto ad Astra anche se c'è da vedere 1917 che non è ancora uscito però a livello generale Le Mans 66 e c'era una volta Hollywood sono buoni ma non così tanto, Joker lo premierei sulla colonna sonora quindi secondo me se la giocano ad Astra è 1917 che però, ripetisco, l'ultimo non è ancora uscito quindi lì è un terno all'otto miglior sonoro sempre 1917, Le Mans 66, Joker, c'era una volta Hollywood, Star Wars, l'ascesa di Skywalker miglior sonoro a sto punto io qua direi... sulla fiducia 1917? ok, basandomi su, diciamo, mi baso su quello che ho visto, tra i quattro, escludendo questo qua direi Joker o Le Mans 66 ma direi Joker, a livello generale mi sembra quella più probabile però stiamo attenti ai 1917 perché con i tecnici secondo me sarà veramente buono come film miglior montaggio, Le Mans 66, The Irishman, Parasite, Jojo Rabbit, Joker non ho ancora visto Jojo Rabbit, Parasite non l'ho visto, maledetto me quindi mi baso su Le Mans 66, The Irishman e Joker e come montaggio io metterei o Le Mans o The Irishman, uno dei due fu forse di più Le Mans ma anche The Irishman come montaggio non è male io dico Le Mans, per sicurezza migliori costumi, Joker, piccole donne, c'era una volta Hollywood, The Irishman, Jojo Rabbit non ho visto Jojo Rabbit, non ho visto piccole donne ma direi che per i costumi Joker non è male quindi io vado molto sul sicuro su Joker miglior scenografia, The Irishman, 1917, c'era una volta Hollywood, Parasite, Jojo Rabbit non ho visto Jojo Rabbit e 1917 ma io dico quasi sicuramente c'era una volta Hollywood a livello di scenografia secondo me è, per il film d'atmosfera che è, è incredibile quindi io dico c'era una volta Hollywood miglior trucco e acconciature, Bombshell, Joker, Judy, Maleficent, Signora del Male, 1917 Bobbshell non so cosa sia, non è uscito, Judy non è ancora uscito quindi ho Maleficent che ci sta secondo me come candidatura non come vittoria a 1917 non l'ho visto e quindi vado di brutto trucco e parrucco quindi Joker, io dico Joker non sono sicuro ma magari migliori effetti speciali, inteso come effetti visivi Avengers Endgame, The Irishman, Il Re Leone, 1917, Star Wars l'ascesa di Skywalker io dico Il Re Leone non l'ho visto in realtà ma da quel poco che ho visto è incredibile Avengers Endgame è buono qui secondo me c'è sempre 1917 che è veramente un punto interrogativo ma qui se la battono Il Re Leone e The Irishman e io dico Il Re Leone perché a livello di effetti visivi si vede da subito che è incredibile quindi io dico Il Re Leone miglior fotografia 1917 c'era una volta Hollywood Joker, The Irishman e The Lighthouse The Lighthouse e 1917 non sono ancora usciti in maledizione quindi mi baso sugli altri tè per fotografia in realtà sono tutti e tre molto buoni quindi io provo a predire così proprio vado a pur istinto secondo me lo danno a c'era una volta Hollywood non so nel senso sono tutte e tre molto buone The Lighthouse non mi ricordo male addirittura in bianco e nero e all'academy piace molto 1917 maledizione non l'ho visto però io direi così a pur istinto c'era una volta Hollywood miglior canzone originale qui proprio andiamo a caso I'm Standing With You da Atto di Fede Into The Snow Frozen 2 Stand Up Harriet Love Me Again Rocketman I Can Let You Throw Yourself Away Toy Story 4 ho visto solo Toy Story Cristo non le conosco quindi io qua non do neanche un parere cioè quella di Toy Story è da carina sì però non so se potrà vincere il miglior canzone originale quindi salto a pie pari così vado a caso spero Rocketman perché pareva un buon film anche se non l'ho ancora visto maledizione però pareva un buon film miglior colonna sonora abbiamo Joker Piccole Donne Storia di un Matrimonio 1917 Star Wars la scesa di Skywalker io qua vado abbastanza sul sicuro con Joker abbastanza ma molto sul sicuro miglior cortometraggio animato salto a pie pari come miglior cortometraggio documentario e miglior cortometraggio documentario questi lì salto a pie pari miglior film straniero abbiamo Le Miserable dalla Francia Honeyland Macedonia del Nord Corpus Christi in Polonia Parasite Corea del Sud e Dolorigolore Spagna Parasite vi dico Parasite non l'ho visto nessuno dei cinque ma sono abbastanza sicuro su Parasite poi vedremo miglior film d'animazione io qua sia stata la cosa incredibile abbiamo Dov'è il mio corpo Klaus Dragon Trainer 3 Toy Story 4 Missing Link allora Missing Link è un film che non è mai uscito in Italia non si sa quando uscirà Dov'è il mio corpo e Klaus sono due candidature per Netflix wow non li ho ancora visti nessuno dei due Dragon Trainer 3 secondo me non ce la fa e Toy Story 4 io dico anche qua pur istinto Toy Story 4 ma Missing Link non so nemmeno che cosa sia perché proprio non è mai uscito in Italia non sappiamo quando uscirà e gli altri due me li recupererò perché io non mi aspettavo due candidature per Netflix veramente era un'expert Klaus avevo visto il trailer anche Dov'è il mio corpo sembravano interessanti ma da candidatura Oscar non me li aspettavo quindi me li recupererò poi magari potrò dire meglio per il momento dico però Toy Story 4 miglior sceneggiatura non originale abbiamo Jojo Rabbit Joker piccole donne The Irishman e due papi eh io non ho visto Jojo Rabbit perché secondo me lo andrò a vedere sto fine settimana secondo me Jojo Rabbit gli può scappare la candidatura però basandomi su quello che ho visto dico The Irishman però non sono assolutamente sicuro miglior sceneggiatura originale c'era una volta Hollywood storia di un matrimonio Parasite cena con delitto Knife Out 1917 felicissimo per Knife Out in questa categoria tra le altre cose e anche per storia di un matrimonio ma qua io penso che vincerà eh vado estinto senza averlo visto Parasite perché me ne hanno parlato un gran bene anche a livello di sceneggiatura se vincesse Knife Out io sarei felicissimo ma non mi pare il caso quindi io dico Parasite ma non sono assolutamente sicuro miglior attrice non protagonista Laura Derne per storia di un matrimonio Scarlett Johansson per Jojo Rabbit Margot Robbie per Bombshell Katie Bates per Richard Jewell e Florence Pug per piccole donne io spero io spero Laura Derne per storia di un matrimonio visto che Scarlett Johansson ha la doppia candidatura sia per Jojo Rabbit sia per storia di un matrimonio io spero per Laura Derne che ha fatto veramente un ottimo lavoro ma non lo so perché ci sono veramente piccole donne che non ho ancora visto Richard Jewell deve uscire Bombshell idem e Jojo Rabbit idem purtroppo fare questo video è difficilissimo perché la maggior parte dei film non sono ancora usciti quindi se non li vedi fai un attimo fatica da fare delle previsioni però io spero su Laura Derne di storia di un matrimonio e dico Laura Derne miglior attore non protagonista Tom Hanks con un amico straordinario Anthony Hopkins per i due papi Al Pacino per The Irishman Joe Pesci per The Irishman la doppietta se la sono presa senza problemi Brad Pitt per C'era una volta Hollywood qua se la giocano tutti forse un po' meno Tom Hanks ma il film non è ancora uscito quindi non saprei dire io dico Joe Pesci secondo me Joe Pesci o Al Pacino uno dei due io dico Joe Pesci però anche se Brad Pitt se lo meriterebbe un casino qui allora a cuore direi Brad Pitt ma a livello oggettivo penso Joe Pesci però andiamo avanti miglioratrice protagonista qui abbiamo Scarlett Johansson per Storia di un matrimonio Cersei Ronan per Piccole donne Charlize Theron per Bombshell René Zellweer per Judy e Cynthia Erivo per Harriet io spero in Scarlett Johansson e dico Scarlett Johansson sono abbastanza sicuro se la merita tutta quindi Scarlett Johansson miglior attore protagonista qui è il putiferio ragazzi questi io qui fai veramente fatica Joaquin Phoenix per Joker Adam Driver per Storia di un matrimonio Leonardo DiCaprio per C'era una volta Hollywood Jonathan Price per I Due Papi Antonio Banderas per Dollar y Gloria a cuore direi Adam Driver perché tra le 5 performance è il migliore ma o meglio è quello che ha preferito ma secondo me andrà a mani bassissime a giocare in Phoenix meritata per l'amore di Dio ma io spero sempre in Adam Driver perché ha fatto veramente incredibile ha fatto una roba veramente incredibile su Storia di un matrimonio miglior regia Martin Scorsese per The Irishman Sam Mendes per 1917 Quentin Tarantino per C'era una volta Hollywood Bongio No per Parasite Todd Phillips per Joker io qua non me ne frega un cazzo Quentin Tarantino per me Tarantino lo vince quest'anno io lo spero con tutto il cuore e dico Tarantino perché per un anno fa un film che ama molto l'Academy perciò io dico Tarantino anche se Bongio No attenzione però e arriviamo alla categoria principale miglior film 1917 The Irishman Piccole Donne Jojo Rabbit Gioca Storia di un matrimonio C'era una volta Hollywood Parasite e Lemo 66 Quasi la giocano C'era una volta Hollywood The Irishman secondo me e io spero per C'era una volta in Hollywood e dico C'era una volta ad Hollywood io ci spero con tutto il cuore perciò vado distinto e dico C'era una volta Hollywood non sono sicuro a livello di Academy secondo me The Irishman potrebbe risuonare leggermente meglio ma non lo so io dico c'era una volta Hollywood mi fido del mio cuore bene queste erano le candidature per gli Oscar 2020 io come solito vi invito a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto a commentare qua sotto per dirmi la vostra se ci sono film che secondo voi meritavano una candidatura secondo me alcuni ce ne potevano essere alcuni altri campanile degli avvisi per rimanere sempre aggiornati e iscrivervi al canale e noi ci rivediamo ad un prossimo video bella ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.